C'è anche raggialli! Non poteva mancare nemmeno Zatti, il coordinatore dei lavori super pesanti. Ed ecco che il carro si sta avviando verso il cantiere Zattiano la mattina del 25 agosto 1991. Un giorno memorabile! La mattina del 25 agosto Dalla carcassa che potete vedere, dopo un periodo di tre mesi, lo vedrete completamente messo a nuovo! La mattina del 25 agosto La mattina del 25 agosto La mattina del 25 agosto La mattina del 25 agosto